Pallone in aria, si prova al volo e ancora, si è gol! Una grande reazione, ora la partita si fa ancora più interessante. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurgli all'errore. Ed ecco che arriva il terzo gol per lui nella competizione. Grazie a tutti, grazie a tutti.